Verbo montare. Montieren. Montieren. Presente. Presence. Io monto. Ich montiere. Tu monti. Du montierst. Lei monta. Sie montiert. Noi montiamo. Via montiran. Voi montate. Ia montiat. Loro montano. Sie montiran. Noi sappiamo che la vocale E e la consonante R, a fine parola, si pronunciano come se fosse il suono della vocale A. Quindi, ad esempio, lo zucchero si scrive der zucker, ma si pronuncia dea zucca. Queste due lettere E e R, se si trovano all'interno di una parola, la R viene pronunciata solo se è seguita da una vocale. Ad esempio, io monto. Ich montiere. La R in questo caso si pronuncia. Se invece è seguita la R da una consonante, non viene pronunciata. Ad esempio, tu monti. L'imperfetto e il passato remoto vengono tradutti dal preteritum. Io montavo. Ich montierte. Tu montavi. Du montiertest. Lei montava. Sie montiert. Noi montavamo. Wir montierten. Voi montavate. Ich montiert. Loro montavano. Sie montierten. Il participio passato del verbo montare è montato, montiert, montato, montiert, montiert. Passato prossimo. Perfetto. Io ho montato. Ich habe montiert. Tu hai montato. Du hast montiert. Lei ha montato. Sie hat montiert. Noi abbiamo montato. Wir haben montiert. Voi avete montato. Voi avete montato. Ihr habt montiert. Loro hanno montato. Sie haben montiert. FUTURO SIMPLICE FUTURO SIMPLICE FUTURO 1 Io monterò. Ich werde montieren. Tu monterai. Du wirst montieren. Lei monterà. Sie wird montieren. Noi montieren. Noi monteremo. Via veden montieren. Voi monterete. Ia vedet montieren. Loro monteranno. Sie veden montieren. Il condizionale presente e il congiuntivo imperfetto vengono tradotti dal coniuntiv 2. Io monterei. Ich montierte. Tu monteresti. Du montiertest. Lei monterebbe. Sie montierte. Noi monteremmo. Via montiertan. Voi montereste. Ia montiertat. Loro monterebbero. Sie montiertan. Sie sont wellons. ies. Sip! Hai! See! Office chrome!